ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi voglio far vedere tutti i miei danni io in tre giorni sono riuscita a combinare un danno enorme io sono riuscita a fare questa cosa in tre giorni bisogna avere una malattia comunque danno a parte alcuni sacchetti che penso saranno i primi che vi faccio vedere saranno le cose che ci vogliamo mettere io matteo e selena per il giorno del partesimo poi sono stata qualche giorno da mia mamma e ho fatto tutto il resto dei danni sostanzialmente però adesso vi spiegherò il motivo piano piano vi spiego tutto quanto allora devo fare un cordino di un reggiseno che ho pagato non lo so non voglio dire neanche il numero perché sennò mi sento male però vi dico solo l'ho preso da loveable se si dice così comunque quel posto la e si me lo sono provato nel camerino mi fascia benissimo le zizze perché dopo il parto le mie zizze sono molto vuote e quindi avevo bisogno di una cosa comoda e tutto quindi ho preso questo reggiseno qua e il mio vestito come sapete l'ho preso su shane quindi qua c'è il pacchettino mi piace molto 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 e e e e adesso ve lo faccio vedere subito non ve lo faccio vedere indossato perché onestamente non non ho voglia avrete già visto dando indossato quindi ve lo faccio vedere così ecco con tutte le valse c'è l'elasticchino qua in vita si può fare il fiocco comunque così molto molto bello sentite un po di movimento di piantarelli di lagnette e lei adesso vi faccio vedere le scarpe che avete già visto in realtà perché alla fine ho comprato proprio quelle che mi facevo vedere nel blog sono bellissime a me mi piace uno sacco per quello che io ho pagate una cavolata proprio e sono molto molto carine elegante adesso vi faccio vedere il vestito di matteo di matteuccio abbiamo preso questa giacca qua così benigolina comunque chiara il tessuto è cotone mistolino quindi anche adatto per per la stagione ecco che aveva un altro completo elegante però era troppo pesante ed era anche scuro così a meno ce n'è uno scuro e uno chiaro facciamo vedere i pantaloni di papà questi sono i pantaloni ovviamente stesso tessuto stesso colore è un completo a questi li abbiamo portati in sartoria e li abbiamo fatti accorciare perché teo non è un armadio insomma è poco più alto di me ma poi qua dietro ci sono anche le scarpe che si metterà teo ve le faccio vedere ma non ne abbiamo comprate nuove ce le aveva lì già guarda 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 sono molto carine eleganti con la punta nere si mario bruni non lo conosco ciao mario se ci stai guardando il vestito di selena l'abbiamo preso da ai tu non lo so come si dice facciamo vedere le scarpette queste sono le scarpette mangialo eh guarda le mettiamo qua il copri pannolino perché teoria dovrebbe far caldo io mi porterò anche una calza maglia però spero di non mettergliela perché 18 di giugno dovrebbe fare bollore grazie comunque come copri pannolino abbiamo preso questo qua con tutte le valse pure lei ma tanto non si vedrà poi il copri spalle perché l'abitino comunque sarà adesso lo vedete comunque copri spalle ci voleva almeno per la chiesa anche questo l'abbiamo preso con tutte le valse qua bianco ovviamente ok tipo un'altra bolletta se le poi ho preso ovviamente la fascettina ecco la papa si è staccato il prezzo abbiamo voluto fare proprio una cosa super 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 completa e quindi lei mi ha preso anche nel caso in cui si dovesse togliere le scarpine perché lei non le tiene lei mi ha preso anche le calze che si toglie pure quelle però ho voluto prevenire prevenire si dice si prevenire qualsiasi cosa quindi mi ha preso anche le calzine abbinate allora il vestitino vestitino vestitoso ecco qua è bellissimo bellissimo allora c'ha tutte le valse pure lei con sotto questo tulle si dice non lo so in realtà comunque è così le maniche ci sono però non sono tanto tanto coprenti quindi se fa freschino giustamente devo metterli un po' più spalle c'ha questo fiore qua sul davanti che abbiamo fatto richiamare dalla fascia e oddio non vedo l'ora che arrivi quel giorno puntate oggi giovedì e il battesimo è domenica quindi mancavo che da da classe io ci sono io non lo so e sefora allora vi faccio vedere prima sefora ho preso proprio due cose in croce ho preso un mascara di sefora perché non ho voluto spendere troppi soldi non truccandomi mai in realtà ne avevo comprato uno di recente di mascara solo che mi è venuta la congiuntivite e ho continuato a usarlo e ho paura che mi ritorna quindi lo butterò fa niente e ne ho comprato un altro e visto come è andata non ci ho voluto spendere troppi soldi e non lo so mi ispirava questo burro di cacao al gusto di melone no auguria ho preso questi due mi hanno dato lì in cassa dei campioncini di qualcosa che non lo so se li userò no guarda questo si ha un profumo campioncino di tutto qua e una crema di lancome e poi da Douglas ho preso un rossetto e la sua matita abbinata avete già visto il colore quindi sapete qual è ecco comunque se vi interessa dato che lo fanno tutte le influencer questo è il numero 3 Feeling Myself e la matita 06 Sexy Sienna anche qua da Douglas mi hanno dato due campioncini e lei è stata gentilissima perché sono andata con Matteo a prendere il rossetto da Sephora no invece il rossetto si e quindi ci hanno dato due campioncini di due profumi uno per uomo e uno per donna Sennelita che bonita allora guardate tutti i miei nuovi pagliaccetti questo qua tipo un ananas colorata c'era anche fai vedere questo qua questo 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 veloce veloce così Rocco Brocco lo vuoi Rocco Brocco da Pepco abbiamo comprato se lo scelte io in realtà Matteo non c'era quando ho preso queste cose e ho scelto questi pantaloncini anche questi troppo belli perché hanno la gamba così poi ho preso questi pantaloncini qua azzurri semplicissimi che venivano completi con questa maglietta che richiama l'azzurro ed è fatta così oh madonna il volo che ho preso ok e allora questo completo considerato l'ho pagato 4 euro cioè 2 euro la maglietta 2 euro il pantalone ed è proprio la battaglia poi sempre completo sul blu ho preso questo più che altro perché mi piaceva il pantalone guardate che bello la maglietta nulla di che però semplicissima venendo insieme ho dovuto prendere entrambi e ho preso anche questo vestitino qua del colore simile al primo pantalone che vi ho fatto vedere qua c'è tutte le stampe tipo di fiorini non so che cosa siano da Pepco e tutto ok e invece da H&M ci ho lasciato un polmone io per me non voglio mai spendere soldi cioè se è per Selena se è per la casa allora sì se è per me cerco sempre di rimandare di rimandare quando vado non voglio mai spendere troppo considerate che avevo anche un po' bisticciato con Matteo e quindi ero incazzosa e di conseguenza cosa fa una donna quando è un po' arrabbiata sì quello proprio quello e allora mi sono data la pazza gioia è uscito un pantaloncino e ho fatto scorta di pantaloncini vi devo dire qualche giorno fa volevo fare il decluttering cambio armadio insomma per la arrivo della stagione estiva invece ho visto che tutti i pantaloncini non mi stavano più qualcuno mi stava ma non mi stava più bene dopo il parto e tutto non sono riuscita ancora a perdere tutti i chili che per tornare al peso che avevo prima al fisico che avevo prima e quindi non mi stava più niente allora ho detto sai che c'è c'è un sacco di cose belle e me le sono prese e dai e su e dai abbiamo preso un pantaloncino che sembra enorme adesso così però vabbè con l'elastico con l'elastico faccio il nodino lo stringo e via dello stesso modello l'ho preso anche barroncino così caffè latte insomma questo colore qua lo vado uguale considerate che tutte e tre le ho pagate 30 euro perché era 9,99 l'uno quindi 30 euro per tre pantaloncini di cotone vabbè le bruciate poi ci per sempre vai ciao ciao a me piace saltellare mi piace saltare mi piace saltare ho preso due pantaloncini in jeans quindi ho preso 5 alla fine e allora pantaloncini in jeans neri vita alta questi qua li ho presi della collezione mamma fit height waist 24 euro 99 un pantaloncino corto si anche io se le voglio piangere ovviamente standomi così bene cosa fai chiaro non te lo prendi chiaro te lo prendi e come ed è la stessa identica cosa in realtà volevo comprarvi anche un paio di scarpe però aspettiamo di fare il battesimo vediamo quanto sarà il livello di poveranza in caso me le prendo io direi che questo video può finire qua i miei danni possono finire qua speriamo tanto tanto che questo video vi sia piaciuto se è stato di compagnia di intrattenimento e basta vi facciamo un bacio ci vediamo in un prossimo video iscrivetevi al canale qua sotto c'è iscriviti vai clic